buongiorno cari amici dal vostro mister sunny bus oggi abbiamo un confronto tra questi due amplificatori vintage classici per basso e soprattutto per contrabasso sono due galling e questo è il 200 mb il seconda serie l'amplificatore degli anni 80 e questo è la terza serie il mb e la serie e il terzo la terza serie quindi la differenza tra i due intanto si vede già dall'equalizzazione e dai filtri il modello vecchio ha solamente quattro bande di equalizzazione mentre quello nuovo ha il parametri che ossia sui medio alti che sui medio bassi per il resto sono molto simili e poi cambiata un po l'estetica il modello nuovo ha il radiatore di calore qua sopra mentre quello vecchio non ce l'aveva per il resto sono due amplificatori in condizioni originali quindi andiamo a sentire le differenze timbriche con il contrabbasso userò il mio abituale contrabbasso antico con il pick up underwood e metterò la camera esattamente davanti al lato parlante con l'equalizzazione assolutamente flat in entrambi i casi quindi sentirete il suono puro del dell'alto parlante e del pick up collegato al contrabbasso buon ascolto e a voi il giudizio 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 buon ascolto buon ascolto e a voi il giudizio buon ascolto e a voi il giudizio buon ascolto e in entrambi i casi consigli e a voi il giudizio buon ascolto e i casi 경우에는 Grazie a tutti.